Sono completamente difesa. Difesa e poi partono questi lancioni e triangoli. Che poi gli fanno cagare in difesa, solo che sono tutti lì a muro della forza. Ma giocano sempre così. Ah, io provo a scienare la forza, ragazzi. C'è un dinghini din boom boom. Wow, 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 subito, subito. Arriva, arriva, arriva. Arriva, arriva. All'unica cosa è che il portiere è molto forte pranzo proviamo per la rosa terra sul primo vabbè non se l'aspettavo ragazzo terra sul primo palo questo cazzo tiratela sul primo al portiere forte raga un po' di silenzio per favore gatto stai dietro con me non ti vedi ci sto dammi il via ti zitti un attimo non ho capito più dietro gatti via oddio che avevi con uno stop poi stavo per fare un pallonetto incredibile con un tacchetto strano guarda guarda che che mi l'ha fatto il posto ma adesso uno altro no lo tengo io rigore però adesso famo famo quello che è tutti al limite al mio via la metto in mezzo normale via occhio quello a destra raga occhio che ce n'è uno a destra libero non ho capito chi è che l'ha tirata hai anche eh bravo libro occhio in mezzo sai raga occhio che gatto tu non andare in mezzo oh guarda che quello da me la portiera no che tanto si vede la discusso buona te bravo gatto bravo 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 grande guida oh bello mettila ce l'ho ce l'ho ce l'ho buona te no al limite quella è al limite bravo dai io faccio la finta di portare portarmi lì all'uomo ok ok dai mettiti lì proprio quel cerchio ok qui è quello giallo l'uomo se 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 no occhio qui mirko mi va quasi cercando il mio guardie arrivo eh aspettami un attimo ciao no 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 primo palo a mirko si ma si deve mettere davanti alla difensione ho il miletto ma guarda che io sono candidato fai guarda qua uno a destra lì fai mirko il tuo vuole venuta no 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 un pochino ma minchia avevo visto che è lì grande mirko mi sono risaltatissimo tutto no grande mirko grande grande oh madonna è stato il premio dai 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 pappanculo guarda quanto c'è oscar guarda che va il cross oscar occhio ai rigori qua bravo grande le mani vado io su questo se rientra no non ci piace ragazzi assenti i metri sul secondo palo bello toscano gian gian segui bello 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 ragazzi un'azione bellissima troppo bello bello guarda che esattamente quello che siamo ragazzi porco di tutto di prima grande dai oh non abbassiamo la concentra ancora oh raga facciamo pinta che è caduto mano che prima hanno fatto 0 di import ragazzi basta che siamo concentrati così e andiamo qua aspetta 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 non battere non devo da qui cominciamo la seconda frazione di gioco a a a a a r 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 ho che r r r di r ok test r raga un'altra destra chiama me la chiamai si ma vai davanti uno si allarga uno si allarga ecco vedi a quale cosa stai io porco cazzo a quale cosa stai io diventa perché a destra ti se l'esterno copertura raga marco oddio grande dietro bello qui bravo buongiorno nostri ancora mi ha agganciato bravissimo il madonna occhio qui pure dietro bravo bravo preferisce giocarla sul fortiero bravo 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 io arrivo bravo batte danny raga gatti metti difensore gatti metti di difensore al posto di den ragazzi posizioni posizioni tranquilli tranquilli è nostra bravo Luca calma bravo Luca faccio, faccio, faccio subito Oscar vai Luca dai c'è un bordello gatto lo stroco bravo bravo bravissimo solo per il tuo portiere di sicuro va da quella parte ma lì lo segni sempre lì lì dritto per dritto lo segni sempre eh dritto per dritto l'ho tirato ma cazzo per dritto dai oh raga non è finita in un minuto posso farci due gol porca puttana c'è il topolino eccolo per questo lo dico raga dai non abbassiamo la guardia in un secondo possiamo mandare tutto a puttane aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo vai 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 tiratela su tiratela guarda guarda il giallo guido ce la fai guarda l'angolo mi sa siiii dai olè 6 point o comunque chi è la 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 facciamo gatto ma stai dito che sei uscito vado a vedere il gu e non so la 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 la